Siamo lieti di aver ospitato qui al nostro platano meraviglioso di Curinga per la prima volta in Calabria la giunta nazionale UMPLI. Per noi è stato veramente un grande onore anche la giunta regionale UMPLI e la giunta provinciale UMPLI. Veramente onorati, grazie di tutto, grazie di cuore. Anzi colgo l'occasione, questa importante occasione per ringraziare tutto il mio direttivo, ogni singolo soggio, altrimenti tutto ciò non sarebbe possibile. Grazie ancora e ringrazio l'amministrazione comunale con la quale collaboriamo e la disponibilità che ci offre. Ringraziamo ancora tutti i presenti e speriamo vivamente che questo sia l'inizio di un lungo percorso. Una buona giornata. Ringrazio. 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 Ringrazio.